Formare e informare le donne che amministrano gli enti locali sulle opportunità e le nuove strategie rese possibili dalle sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è l'obiettivo di sette incontri organizzati nelle sei province pugliesi dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia nell'ambito del Forum della Reta delle Lette. La seconda tappa è andata in scena nella cornice del Museo Ribezzo di Brindisi e ha unito intorno a tre diversi tavoli amministratrici ed esperti sui temi dell'economia circolare e dell'agricoltura sostenibile, della transizione energetica, del ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche con un obiettivo molto chiaro. Coinvolgere le amministratrici sentendo i loro bisogni alla predisposizione di un piano che poi sottoporremo alla Giunta regionale per l'approvazione in maniera tale che siano finanziati effettivamente quei servizi che servono alla comunità. L'obiettivo finale del percorso, che dopo aver toccato Lecce e Brindisi arriverà anche a Bari, Foggia, Taranto e Nella Bat e redigere un piano strategico finale attraverso il quale sarà possibile orientare al meglio le politiche della regione. Il tutto attraverso un sistema di lavoro condiviso e partecipato. Le partecipanti sono infatti state divise in tre gruppi, ognuno focalizzato su un tema. La divisione permette la creazione di gruppi più piccoli e quindi una capacità di interazione più ampia. Pre temi affrontati a Brindisi anche quello dell'uso consapevole ed efficiente delle risorse idriche, argomento quanto mai importante in Puglia. Economia circolare per acquedotto significa usare bene tutta l'acqua, anche quella cosiddetta non convenzionale. Penso soprattutto all'acqua buona che noi rilasciamo dai nostri depuratori. Oltre a permettere, tra le altre cose, di avere il mare più pulito d'Italia, diventa una ricchezza per l'agricoltura.